Per dire che al di là delle casacche politiche e delle singole posizioni, qui di mezzo ci sono tre, nelle due banche 205 mila azionisti che rischiano di perdere tutto. Penso sia doveroso un intervento autorevole da parte del governo, la regione se può farà sicuramente da sua parte, visto e considerato che non possiamo dilapidare un patrimonio così importante nelle famiglie dei vedi. Che strada secondo lei bisogna intraprendere? Ci sono tante opportunità, direi innanzitutto di guardare quello che sta accadendo ed è accaduto all'estero, diciamo che all'estero si aiutano e si salvano le banche, penso a quello che è accaduto in Spagna piuttosto che in Germania. Dall'altro la necessità di agire sul fronte delle garanzie e di pensare che i risparmiatori che qualcuno giustamente definisce azionisti, cioè coloro che hanno le azioni ma che vivevano da veri e propri piccoli risparmiatori, non possono vedere dilapidato la quasi totalità del capitale investito. Grazie. 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 Grazie.